Bene ragazzi, scusatemi per l'interruzione, ma erano finiti i minuti e così ho dovuto cancellare alcuni video inutili. E adesso continuiamo, però la faccia mi è venuta veramente schifosa, schifosa, schifosa. Mi è venuta così, non so se si vede bene, ma più tardi si vedrà ancora meglio. Ah, comunque in questi giorni mi sono affezionata di più a un mio fan che è proprio spiegatato. Già lui sa come si chiama, ma lo dico a tutti e spero che voi andiate nel suo canale e gli mettete un'iscrizione. Si chiama Archeograudon. A proposito, grazie, ho visto che siamo arrivati a 40 iscritti e proprio questa settimana farò uno speciale. Ok, comunque continuiamo, se no non finiamo più. Così. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Mi diverto sempre tanto e comunque devo fare qui, ok, così dovremmo aver finito, sì. Questo è il mio audino ancora non colorato, ora si ripassa e si vedrà meglio. Molto bene. E' venuto veramente bene, non tanto ma abbastanza. Ecco a voi il mio, aspettate, il cuore e il bottone, che dovrebbero essere cuori, sì. Ecco qui, adesso lo coloriamo. Allora, iniziamo col gelino chiaro, che alcune parti sono fatte di gelino chiaro. Alcune parti sono gelino chiaro mescolate a rosa, è tipo la pancia dell'audino normale e l'avete visto anche nel video, mi pare com'è. Comunque non preoccupatevi perché di solito sono sempre solo le parti più importanti a non essere viste, quindi se non l'avete vista non vi preoccupate, vi capisco bene. Nooo, era solo sotto gli occhi. Cavolo, cazzo. Devo fare, devo riparare. Perché non sto... Ma poi il colore era chiarissimo. Ok, così dovrebbe andare bene adesso. Sì, per proposito. Che sta succedendo alla luce? No, veramente. Chi sta scherzando con la luce? Vabbè, a me non mi interessa. A me mi interessa solo questo magnifico quadro, disegnino. Ok, qua, 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 qua. Mi sa che mia sorella ne ha combinata un'altra. Ci scommetto una cifra. Ed ecco qua, quasi qua. Ed ecco qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Qua, 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 qua. Se volete colorare veloci come sto facendo io, vi consiglio di stare veramente molto attenti, perché è un po' difficilino. Qui è interrotta la connessione, ma non schiaccio, ok? Perché se no non posso più vedere quella foto di... Siccome io sono bravissimo, però se non guardo non sono niente. Ok, finito ragazzi. Ecco a voi il mio magnifico... Lo so. Ecco a voi il mio magnifico capolavoro. Ta-da-da. Ok ragazzi, grazie per aver visto questo video e ciao. Ciao.